Musica Buongiorno, bentrovati, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa. La rassegna stampa di lunedì 10 dicembre 2018, apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, siamo al centro l'edizione di Pescara, si parla di politica perché si avvicina l'appuntamento elettorale del 10 febbraio, due mesi esatti alle consultazioni per l'elezione del nuovo presidente della regione. Regione 162 sindaci chiedono Legnini, questo è il titolo di apertura, appello degli amministratori abruzzesi, vedete il titolo di apertura, per la candidatura dell'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Vediamo anche a centro pagina lo sport al Pescara, ora serve uno scatto in trasferta. Alla termine della gara con il Carpi festeggiano il tecnico pillone e il difensore Gravion, Pescara che lunedì prossimo sarà atteso nel posticipo del Marcantonio Bentegodi di Verona. Gara che si giocherà alle 21 con la formazione di Grosso che ieri sera a sua volta nel posticipo di campionato è andata a conquistare l'intera posta sul campo del Benevento 1 a 0 il finale. Vediamo le altre notizie, Pescara sconti per due mesi asili, il comune taglia i costi a 250 famiglie, poi il lutto, il mondo della musica pescarese è scomparso, il DJ Alceste, re degli anni 80. Andiamo a vedere ancora sotto, tornando alla politica, a Montesilvano si guarda anche in questo caso all'appuntamento elettorale per le amministrative, la corsa a sindaco, il Partito Democratico stringe su Gianluca Fusilli del PD. Torniamo allo sport per qualche altro titolo, il basket di serie B maschile, vedete l'unibasket amatori vince ed è solo al secondo posto dopo il successo su Fabriano. E poi nazionali pugilato, solo argento per gli abruzzesi Sauli e la Barbera. In alto il calcio di serie A, il posticipo di ieri sera a San Siro, il Milan spreca, il Torino strappa il pareggio, 0 a 0 il finale. Roma in ritiro punitivo e poi in alto troviamo ovviamente anche sui quotidiani abruzzesi la notizia della strage in discoteca a Corinaldo in provincia di Ancona. Ha fermato un giovane, sarebbe colui che avrebbe spruzzato lo spray urticante che poi ha causato il panico e la fuga delle centinaia di giovani che erano presenti all'interno del locale. Ansia per i feriti, alcuni sono ancora in rianimazione in prognosi riservata. Vediamo anche la prossima pagina del centro, l'edizione di Chieti, Lanciano, Vasto. Ritroviamo il titolo che riguarda la politica. Poi invece andiamo a Chieti, teatro e servizi, indagati due ex dipendenti. E poi ancora a Lanciano pochi infermieri partono i concorsi. E poi ancora di nuovo Chieti in lutto, in questo caso il mondo del giornalismo e della fotografia abruzzese perché è scomparso Rocco Schiazza, storico fotografo per tanti anni del messaggero, ma figura sicuramente importante per quanto riguarda proprio il rapporto tra la fotografia e i quotidiani. Aveva immortalato per tantissimi anni la cronaca, non solo di Chieti e provincia, ma di tutto l'Abruzzo. E' scomparso a 81 anni. Vediamo anche lo sport del lunedì, in questo caso si parla del Chieti che grazie ad un gol di Marfisi passa per 1-0 sul campo dello spoltore e resta primo in classifica nel campionato regionale di eccellenza. E poi il volley perché c'è stato il colpo in trasferta della Siecortona che è passata per 3-1 sul campo del Cisano Bergamasco. Ora il quarto posto è davvero ad un passo, l'edizione di Teramo del quotidiano Il Centro. Parliamo di cronaca, moglie maltattata, assolto il marito. E poi rinasce l'azienda distrutta dalla frana, ricorderete, a Ponzano di Tortoreto. Dunque ci sono buone notizie per questa azienda che sembrava dovesse scomparire, che invece ha fortunatamente riaperto a Silvi anche fondi privati per rifare il villaggio. Lo ha detto il primo cittadino di Silvi, Andrea Scordella. Vediamo lo sport in chiave teramana, in basket in primo piano con il Roseto che vince la prima gara in trasferta della stagione. Dopo i supplementari passa sul parquet delle Piacenze. E poi il teramo calcio dopo le polemiche per i risultati negativi degli ultimi turni. Finalmente un sorriso per i biancorossi che sono riusciti a pareggiare nell'ultimo turno al Menti di Vicenza. Soddisfatto il patron Campitelli, a Vicenza ho visto il teramo con lo spirito giusto. Teramo che tornerà in campo domani sera per il turno infrasettimanale al Bonolis contro il Pordenone. Si giocherà alle 20.30, vi anticipo, poi ne parleremo nel corso della pagina sportiva, che ci sarà un appuntamento straordinario con Proteramo, non alle 21, l'orario canonico, ma alle 22.30 per il dopo partita proprio dal Bonolis di Teramo-Pordenone. Ma andiamo per ordine, torniamo alla prima pagina del centro, edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Siamo all'Aquila, la crisi al comune per i posti all'emiciclo, ne parleremo poi vedendo gli articoli all'interno del giornale. E poi a Capistrello, fiaccolata di solidarietà per il sindaco arrestato. E poi incidenti stradali a Tagliacozzo, siamo sempre nella Marsica, grave ciclista di 88 anni, travolto da un'auto pirata. E poi vediamo lo sport, in questo caso sulla prima pagina del centro, edizione dell'Aquila, rugby di Serie B, al Paganica, il derby con l'Avezzano e poi box ai tricolori assoluti elite, argento per il marsicano Sauli. Avevamo visto anche prima il titolo e poi un altro titolo che riguarda il calcio, il calcio di prima categoria, Pizzoli aggancia l'Aquila in vetta, poker del Celano. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Blindate, feste e discoteche, dopo la tragedia di Corinaldo di Ancona, scattano controlli speciali nei locali del Pescarese, sale da balo, le forze dell'ordine verificano la capienza, giro di vite sugli spray urticanti. E poi il lutto, la scomparsa, ritroviamo anche sul messaggero, la notizia della scomparsa dello storico DJ Pescarese Alceste Pasquinelli. E poi la politica, centrodestra, si parla di amministrative, la Meloni a Salvini. Vediamoci. E poi andiamo a centropagina, siamo a Chieti, ospedale a rischio, il servizio Mensa. E poi più carabinieri, primi cittadini disposti a pagare. E poi in basso, Capistrello, il paese manifesta a favore del sindaco Ciciotti. Vediamo in alto lo sport rugby, l'Aquila sconfitta ma ottiene il bonus, calcio di eccellenza, Chieti Corsaro con Marfisi Gol è campione d'inverno, Pescara, tre rinforzi big per sognare la Serie A. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere l'edicola nazionale, come di consueto partendo dal Corriere della Sera. Si parla di manovra economica del Governo, le imprese a Salvini, dialogo sì, ma ora i fatti. Il Ministro frena sui tagli alle superpensioni. E poi la tragedia di Corinaldo, fermato il ragazzo dello spray, i sospetti su un sedicenne trattenuto per droga, mistero su biglietti e orari. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica, ritroviamo lo stesso titolo, fermato il ragazzo dello spray. Nella discoteca tutti ubriachi, il minorenne aveva droga in casa, orari, impegni quello che non torna. Nella notte del rapper, vediamo anche a centro pagina, accordo ancora lontano, reddito, fornero, riforme, le dure condizioni dell'Unione Europea. In poste all'Italia, il Fatto Quotidiano, Salvini ignora i 60 mila notav e imbarca il Partito degli Affari. Questo è il titolo principale del Fatto Quotidiano. Poi vedete a centro pagina, la storia di copertina, bilancio di sei mesi dell'esecutivo Conte, errori, successi e omissioni, il Conte primo di lotta e di governo. Il messaggero nazionale, un tetto per reddito e quota 100, manovra tagli automatici e sussidi e finestre più lunghe se le domande di pensione aumenteranno, assegni alti, stop, lega al super contributo, oggi vertice per superare il veto di Di Maio, sul deficit al 2 per 100. E poi ancora fermato un minorenne, la strage per una collanina. E poi vediamo un'altra notizia, in questo caso la ritroviamo in basso. Politica internazionale, tensione con Trump, dietro fronte di Macron, ho fatto errori e calma. I gilet gialli, tornata una calma relativa in Francia dopo i disordini e gli incidenti degli scorsi giorni, delle scorse settimane. Siamo a Libero, il vice premier gioca a tutto campo, Salvini seduce gli imprenditori, il ministro li riceve tranquilli, al lavoro e opere pubbliche, ci penso io. Industriali soddisfatti, finalmente il dialogo. Poi Matteo apre all'Unione Europeo, cambio la finanziaria, ma basta le dita negli occhi, ha detto Salvini, incontrando gli imprenditori. Andiamo a vedere anche il titolo che troviamo a centropagina con annessa foto, come Vialli può resistere al suo male. Ogni mese mille italiani si ammalano di tumore al pancreas. Discoteche irregolari sono la regola. Strage di Ancona, affermato un minorenne, oltre allo spray c'è anche la droga. Vediamo anche la prima pagina del Sole 24 ore, evasione sottotiro con la fattura elettronica e banche dati. E poi alla pubblica amministrazione digitale, solo 50 milioni. E poi ancora sotto, la manovra premia la scuola con altre 20 mila assunzioni inserite nella legge di bilancio del governo. Siamo al quotidiano napoletano il mattino. Il titolo principale riguarda anche in questo caso la tragedia di Corinaldo. La strage per una collanina ha preso il ragazzo con lo spray. E poi di spalla, nuova manovra, arrivano i tetti per reddito e quota 100. Andiamo avanti. Il giornale Salvini fa fuori Di Maio e Conte, questo è il titolo del quotidiano milanese. Riceve da solo gli imprenditori e tratta con l'Unione Europea il leghista. Si muove da Premier, Tajani, Europa spaventata dall'Italia, finanziaria da cambiare, ha detto l'esponente di Forza Italia. Vediamo anche il prossimo quotidiano che è La Verità, scandalo accoglienza, immigrati, un posto di lavoro ci costa quanto una Rolls Royce. E poi perché a 11 anni vanno a sentire uno che canta queste porcate. E titola sempre Il Quotidiano, La Verità. E poi Sanità, ecco il lato oscuro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Fondi privati, grandi hotel, Mugabe, Bill Gates e i vaccini, la nostra inchiesta, l'inchiesta del quotidiano La Verità. Vediamo anche la stampa di Torino. Conte avverte l'Unione Europea il governo unico argine alle violenze di piazza. Salvini vede le imprese e si smarca da Di Maio sia a TAV e grandi opere. Ha detto nell'incontro con gli imprenditori il leader della Lega, nonché ministro degli interni. E poi la battaglia della paladina dei diritti nella terra dei narcos. Claudia Sheinban è sindaco di Città del Messico dalla 5 dicembre. Vediamo anche il tempo. Banca d'Italia, la rivolta dei tornelli, i viscoli e imposti da oggi in alcune sedi. 8 sindacati minacciano perfino lo sciopero. A turbarli c'è anche la pausa caffè e sigaretta limitata a 15 minuti. Se sforano saranno multati. Vediamo anche il prossimo giornale che è il secolo.it. Macron nell'angolo, non è Beirut o il Cairo, ma Parigi. Le immagini della manifestazione dei gile gialli evocano moti di piazza della primavera araba. Macron grazie alle forze dell'ordine. Questo era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso in esame. Ora possiamo tornare ai giornali abruzzesi. Ripartire dal quotidiano Il Centro, che dedica grande spazio anche oggi alle amministrative, alle elezioni regionali. Mancano due mesi esatti perché si andrà a votare a meno di clamorosi colpi di scena, come è il caso di dire, il 10 febbraio. Dunque tra 60 giorni e vedete la carica dei 162 sindaci e amministratori per la candidatura di Giovanni Legnini, l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. E poi in basso Luciani, il primo della lunga lista, il sindaco di Francavilla. Con lui guarderemo avanti. Luciani è uno dei promotori di questa iniziativa, di questo documento dei sindaci, degli amministratori abruzzesi che scendono in campo per far sì che Giovanni Legnini possa candidarsi ufficialmente come candidato presidente della regione per il centro-sinistra. Vedete la lista, la lunga lista dei firmatari di questo documento. E intanto nel centro-destra sono ore decisive per l'ufficializzazione del candidato presidente, Marsilio, che è stato designato dal tavolo romano. Ieri ha partecipato all'inaugurazione della sede di Fratelli d'Italia a San Giovanni Teatino. La candidatura, vedete anche il titolo del senatore romano, è quasi sicura, ma il forzista Martino gli sferra l'ultimo attacco. E intanto in casa del Movimento 5 Stelle è stata organizzata una cena di Natale per sostenere la candidata presidente del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Questa cena di Natale si terrà a Chieti in un palazzo del Settecento. Andiamo a fondo pagina per parlare di altro, per parlare di solidarietà, di politiche sociali, perché questa sera al Teatro Massimo di Pescara ci sarà uno spettacolo per parlare di affido e accoglienza, affido e accoglienza che vanno in scena. Questa iniziativa fortemente voluta dall'assessore regionale alle politiche sociali. Marinella Sclocco. Andiamo avanti per vedere un'altra pagina del Quotidiano Il Centro. Siamo alle cronache dalle e province. Partiamo come di consueto da Pescara. Si parla di scuole. Il Comune taglia le spese, asili, tariffe scontate per 250 famiglie. La Giunta riduce fino al 20% i costi di settembre-ottobre come risarcimento per l'apertura in ritardo delle mense. Ma per il rimborso della rata di giugno e caos, il dirigente scrive ai genitori, i crediti non sono compensabili attraverso i pagamenti alla nuova ditta. Lasciamo questa pagina, andiamo a vedere la prossima. Si parla di area di risulta. Il Partito Democratico diviso sul pala eventi. Il segretario PD di Pietrantonio rilancia l'idea di uno spazio per concerti e manifestazioni. La Giunta punta ad un auditorium. E intanto il presidente vicario della Regione, Giovanni Lolli, parla delle piscine e le naiedi e dice tempi rapidi per il progetto di rilancio delle naiedi. Andiamo a vedere anche la prossima pagina che ci fa vedere l'articolo sulla scomparsa del DJ pescarese Alceste Pasquinelli. E' morto il DJ Alceste. In cielo una bella console si è spento a 58 anni Pasquinelli. storico DJ delle discoteche Roxy e Lenny. Il dolore degli amici oggi si terranno i funerali. Di spalla vedete il titolo che riguarda la politica. Progetti sulla mobilità. Il Comune di Pescara si aggiudica 2 milioni. Un progetto che è stato vinto proprio dal Comune di Pescara. Emergenza senza tetto. Si cercano dormitori in vari punti della città. Si pensa all'arrivo imminente del freddo. L'assessore Teodoro annuncia che l'amministrazione sta individuando le sedi. Allegrino, l'assessore comunale alle politiche sociali. Bisogna fare presto. Intanto la solidarietà che vede l'Adricesta sempre in primo piano. L'associazione guidata da Carlo Pansino ha consegnato 5 carrozzine all'ospedale di Pescara. Siamo a pochi giorni dal Natale. Si susseguono le iniziative in molte città della nostra regione. E in mostra presepi da tutto il mondo a Pescara e in Via Piomba. Più di 700 creazioni artigianali. E un albero di danzatrici. Vediamo anche la prossima pagina che ci porta a Montesilvano. Come anche a Pescara e a Chieti per esempio. Si voterà anche a Montesilvano prossimamente per le amministrative. Il PD stringe su Gianluca Fusilli. Ma Gallerati è pronto a correre. L'ex sindaco dice no alla regione. Trova il sostegno di Di Matteo. Articolo 1 è civiche. L'ex deputato Gianluca Fusilli punta ad aggregare il centro-sinistra. La lista Teodoro ha già dato la sua benedizione. Lutto a Spoltore per la scomparsa di Fabrizio. Questo giovane di 43 anni. E poi vediamo anche un altro titolo che ci riporta invece alla politica. Sempre a Montesilvano. De Martinis, l'attuale vice sindaco di Montesilvano. Candidato per le regionali. E dice alla regione per continuare a lavorare per la città. De Martinis che si è candidato con la Lega di Salvini. In basso torniamo a Spoltore. Al via il bando per le case popolari. Domande in comune entro il 31 gennaio. I criteri per partecipare. Poi ieri a Pescara, a proposito di Natale, al babbo Natale Running. In 200 ai nastri di partenza di questa iniziativa. Che è stata organizzata dalla Wisp, Abruzzo e Molise. Siamo alla pagina di Chieti del quotidiano Il Centro. L'inchiesta scoperte le finte operazioni. Intascano i soldi delle bollette dell'acqua. Indagati per Peculato due ex dipendenti della Teatreservizi. L'accusa si sono impossessati di 37 mila euro pagati dagli utenti. Andiamo più a centro pagina. Ancora Chieti picchiato fuori da un locale. Pugni in faccia ad un 37enne. Poi a Bucchianico i ladri devastano la casa Hobbit. Rubate 3 mila euro di attrezzature per la festa del Signore degli Anelli. Vediamo poi in basso la notizia della scomparsa del re dei fotografi teatini. Rocco Schiazza lo vedete in una foto storica al fianco di Massimiliano Allegri. Ex giocatore del Pescara ma soprattutto oggi allenatore della Juventus. Rocco Schiazza scomparso all'età di 81 anni. Oggi si terranno i funerali nella chiesa del Santissimo Crocifisso a Chietiscalo in Piazzale Marconi. Andiamo a vedere anche le altre notizie che arrivano dalla provincia di Chieti. Siamo a Monte Odorisio nel vastese giallo irrisolto. Il delitto del pensionato, l'omicidio di Lizzi resta senza colpevoli. L'analisi delle impronte trovate nella casa di Monte Odorisio non dà risposte ma le indagini dei carabinieri non si fermano. E poi siamo a Vasto, concerto sulla spiaggia. Giovanotti, piano per la sicurezza, via gli incontri con gli operatori della Marina per la Maxifesta. E poi Vasto, Cerella, minacciano sciopero i dipendenti senza stipendio. E poi pochi infermieri, il sindacato chiede concorsi. Nursing up contro l'ASL, personale obbligato a svolgere altri compiti. Bisogna assumere. Andiamo ancora avanti, siamo alla pagina dell'Aquila. Comune centrodestra nella bufera. La crisi per uno scranno alle biciclo. A difesa dell'assessore Di Stefano, che è stata defenestrata, si schiera il marsicano Iampieri, favorito per la riconferma alla regione. E poi Gran Sasso, centro turistico prorogata seconda prevendita di tessere. E poi domani all'auditorium del Parco del Castello all'Aquila ci sarà il ventennale dell'Eli Soccorso, serata nel ricordo delle vittime. Ricorderete della tragedia di Campo Felice. E poi in basso siamo nella Marsica. 3.000 pansè per un Natale a colori, le piantine acquistate dal Comune con l'obiettivo di trasformare Avezzano in una città giardino. Da Avezzano ci spostiamo a Capistrello per la notizia che riguarda l'inchiesta sugli appalti. C'è stata una fiaccolata di solidarietà per Cicciottin 200 al corteo per esprimere vicinanza al sindaco arrestato e agli indagati. Ma anche fiducia nella magistratura. Intanto il primo cittadino, vedete l'articolo di spalla, il primo cittadino attende di poter tornare in libertà. In basso la cronaca ci porta a Tagliacozzo. Restiamo nella Marsica, ciclista travolto dall'auto pirata e grave, ex carabiniere di 88 anni, percorreva la Tiburtina, ricercato l'automobilista, fuggito. Siamo alla pagina di Teramo, sempre del quotidiano Il Centro. La sentenza, violenze sulla moglie, assolto il marito, Teramano di 35 anni, era finito a giudizio, accusato di gravi maltrattamenti, ma per il giudice il fatto non sussiste. E poi Don Franco D'Angelo, prete di Castelli, protagonista dello spot della CEI in TV della conferenza episcopale italiana, che ha scelto proprio questo sacerdote abruzzese per questo spot. E poi, vedete in basso, siamo a Giulianova, Bassanella verso il no alla candidatura. Giulianova, l'ex capogruppo PD, rinuncerebbe alle regionali per candidarsi a sindaco di Giulianova, con una lista civica. Siamo ancora alla pagina della provincia di Teramo, che ci porta a Ponzano di Tortoreto. Una storia lieto fine, rinasce l'azienda distrutta dalla frana, stalla e terreni inagibili, l'allevamento riapre a Tortoreto, con le strutture mobili fornite dalla regione. E poi in basso, ci spostiamo a Silvi, fondi privati per il villaggio, il sindaco Andrea Scordella cerca investitori per il recupero della ex colonia di Silvi. E poi Roseto, crisi alla Sagem, il sindaco incontra l'azienda che produce mangimi. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo fermarci per qualche attimo, andare a vedere insieme anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi tra pochissimo, come sempre, torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6, andremo a vedere le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero e poi parleremo di sport con le pagine dedicate al calcio, ma anche al basket, al volley e agli altri sport. Di nuovo in studio, seconda parte di mattino 6, siamo arrivati alle pagine dello sport del centro, ma come detto prima di parlare di sport, lo faremo ampiamente più avanti, vediamo le pagine dell'inserto Abruzzo del messaggero, siamo alla pagina di Pescara, arriva il giro di vite su spray urticanti e è pienone nei locali. Negli ultimi mesi due aggressioni con bombolette al peperoncino hanno provocato panico e irritazioni, guardia alta dopo Corinaldo. E poi la notizia che riguarda l'addio al DJ pescarese Alceste Pasquinelli, morto nella notte, oggi si terranno i funerali. Poi la cronaca ripulito dai ladri, lo stabilimento di Michele Gelsi, ex giocatore del Pescara, ci sono le indagini in corso da parte delle forze dell'ordine. Andiamo a vedere la prossima pagina del messaggero, che è la pagina che riguarda la cronaca dell'Aquila, in questo caso in primo piano, vedete il titolo di apertura che riguarda il club alpino in festa, si torna infatti nella storica sede di Via Sass, la sezione Aquilana e la seconda per età dell'Abruzzo e dunque ci sarà questa importante cerimonia. Intanto a San Giuliano si pensa a una nuova viabilità. Vediamo poi di spalla la notizia con corredo di articolo da parte del quotidiano, il messaggero, regionali candidature ancora in alto mare, in questo caso si parla del centro-sinistra. Poi sotto, vedete in basso a fondo pagina, la cronaca giudiziaria, auto dalla Germania, già 120 persone nei guai. E poi un libro sulla città, il nuovo millennio. Oggi la presentazione all'Aquila. Dalla pagina dell'Aquila siamo alla pagina che riguarda la Marsica e la Valle Peligna. Capistrello, la gente scende in piazza. Siamo nel centro marsicano, il paese manifesta solidarietà al sindaco Cicciotti e altri indagati per la vicenda degli appalti. E' un corteo lungo, le strade, poi sotto la casa del primo cittadino, un lungo applauso, assenti i consiglieri comunali. Vedete poi di spalla la notizia che riguarda la scuola, summit di pedagogia tra l'Aquila e Avezzano. E poi Pescasseroli, demolito un manufatto abusivo del parco d'Abruzzo. E poi vedete ancora sotto altri titoli che riguardano sia la Marsica che la Valle Peligna. Partiamo da Sulmona. In questo caso il 19enne innamorato pazzo ci riprova, ma lei lo scaccia. E poi ancora Sulmona, gli studenti del Fermi una settimana a Dublino. E poi ancora a Avezzano si riparla di centro smistamento merci. In questo caso. Andiamo a vedere anche in basso una notizia di Sport. In B, l'Avezzano perde il derby con il Pagani. Abbiamo ritrovato questa notizia anche nella prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Ma come detto parleremo di Sport tra qualche minuto. Ora siamo alla pagina di Chieti del messaggero. Cop in scadenza, servizi a rischio, ospedale possibile blocco della mensa dal 1 gennaio via dalle corsie, anche ausiliari e operatori, sociosanitari. Vediamo anche il titolo più in basso. Chieti dall'addio anche sul messaggero. Ritroviamo ovviamente la notizia dell'addio a Rocco Schiazza. Una vita per la macchina fotografica. Pioniere dei reporter per lunghi anni, anche al messaggero, si è spento ieri. C'è stata anche la dichiarazione, il ricordo proprio del sindaco di Chieti Umberto di Primio. Perdiamo un pezzo di storia. Vasto Palazzo Genova in balia dei ladri. Rubato il pregiato pavimento. E poi in basso strade da brivido. L'ESA dopo lo scontro con un cinghiale a San Salve. A Lanciano vola nella scarpata, ferita una donna. Siamo a Teramo, escalation di furti. Sindaci vogliamo più carabinieri. Le zone maggiormente colpite sono il capoluogo Giulianova e Roseto. E poi novantenne Sunape, in veste anziano e fugge. È accaduto a Giulianova. E poi tribunale indagato a 87 anni per un atto falso. E poi in basso Giulianova, il 26 Torne Presepe Vivente, suggestione nella città alta. E poi ancora Capodanno in piazza con le band emergenti. Lasciamo anche questa pagina. Siamo arrivati in questo caso allo sport. E allora possiamo aprire ufficialmente la pagina sportiva. Andando a vedere le prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo con la gazzetta dello sport che parla di calcio in primo piano, ovviamente come ogni lunedì. Ronaldo intervista a tutto campo con Cristiano Ronaldo che chiama Messi. Io ho scelto la sfida e ora lo aspetto qui. Non esiste, ha detto Ronaldo, un gruppo come la Juve. E poi il posticipo di ieri sera tra Milano e Torino, un euro pari. Donnarumma fa un miracolo. E poi Leonardo, dirigente rosso-nero, smentisce e chiude definitivamente la porta all'arrivo nel Milan di Ibrahimovic. Ma ovviamente serve una punta. E poi vediamo anche in basso Icardi al Bernabeu, imbarazzo Inter. Domani c'è il PSV, Maurito vola a Madrid. E il Superclassico infinito, la Coppa Libertadores, dopo gli incidenti in Argentina, si è giocata a Madrid con la vittoria del River Plate sul Boca Junior per 3-1 dopo i tempi supplementari. E intanto c'è Liverpool-Napoli, allarme Salancelotti prepara la trappola. L'ex romanista è il giocatore più in vista, sicuramente più temibile degli inglesi in vista della sfida con il Napoli. Dalla Gazzetta dello Sport passiamo al Corriere dello Sport. Il discorso del Re, la prima volta di Cristiano Ronaldo, la Champions deve essere un sogno, non un'ossessione come la decima del Real. La Juve è una vera squadra famiglia, mai temuto Messi, ho vinto in tutti i grandi campionati. Venga lui in Italia, difficile però che Messi chiuderà la carriera in Italia. E poi vediamo le altre notizie delle gare di ieri. Milan stoppe a Dio Ibra, Rossoneri a meno 3 dall'Inter. Iguaino e Cutrone fermati dal Torino, Leonardo chiude al ritorno di Ibraimovic. E poi Prandelli che debutto, il Genova rimane in 10 dall'undicesimo ma conquista un pari con la spalla. E poi Super Pippo, ora è decisiva, il Bologna perde anche a Empoli. E Sonero di Inzaghi decide il patron saputo. E poi la Coppa della violenza nella storia del River, finalmente segnata la Libertadores. il Boca Juniors KO 3 a 1, solo ai supplementari con il River Plate. E grande protagonista, lo vedremo dopo di questa partita, è stato l'ex giocatore del Pescara, Quintero. Vediamo anche Tutto Sport, l'intervista Cristiano Tutto, parla Cristiano Ronaldo. E poi in alto Inter, PSV e poi Marotta. Pichet garanzia Barsa, Atalanta da urlo con Super Zapata, passa sul campo dell'Udinese. E poi Toro di Ferro, stile Radice. Ieri anche a Milano, prima della sfida tra Rossoneri e Granata, è stato ricordato Gigi Radice. Scomparso due giorni fa con lui, il Torino vinse l'ultimo scudetto. E Radice è stato anche un grande giocatore del Milan, prima di diventare allenatore. Lasciamo dunque i tre quotidiani sportivi nazionali, ripartiamo dal centro. Pescara serve il colpo in trasferta, secondo posto costruito in casa. Lunedì, lo dicevamo prima, in apertura di questo appuntamento con Mattino 6, ci sarà la gara di Verona. E come vi dicevo qualche istante fa, l'ex Quintero ha deciso la Coppa Libertadores con la vittoria del River Plate per 3-1 con il Boca Juno e altri titoli nella prima pagina dello Sport del Centro. Domani arriva il Pordenone, parliamo del Teramo e di Serie C a Vicenza. Ho visto un grande Teramo, ha detto il patron Luciano Campitelli. Poi alcuni richiami sul calcio, ma non solo. Pagine che poi andremo a vedere e a esaminare tra qualche istante in maniera dettagliata. Campionato regionale di eccellenza di calcio, Chieti e San Buceto a Braccetto al primo posto. Tacchi, rilancio in Migliani, con promozione il Lanciano cade a Tortone e viene raggiunto in vetta dalla Bacigalupo, Vasto Marina. E poi il mercato della Serie D, Serie D che aveva giocato sabato, vi avevamo proposto tutti i servizi delle partite in appuntamento di sabato sera con l'Abruzzo del Pallone, ma si parla di mercato, mercato in pieno fermento per le abruzzesi di D. Giulianova prende da Damo e Pedalino, via Mangiacasale. Lasciamo la prima pagina dello sport, andiamo a vedere le pagine interne. Il calcio, notte in bianco, il Milan e Sprecone, il Toro impone il pari, 0-0. E poi in basso, Sassuolo-Fiorentina 3-3, i Viola si salvano al 96esimo. E poi Zapata lancia l'Atalanta, primo stop per Nicola, 3-1 per i Bergamaschi. E poi la crisi della Roma, Roma in ritiro punitivo, fiducia a Di Francesco. In basso le altre partite, Genova-Spal 1-1, Parma-Chievo 1-1, Empoli-Bologna 2-1 con Inzaghi, tecnico dei Felsinei che rischia. E poi la storia, la storia di 22 anni fa, la tragedia lungo l'autostrada del Sole, la scomparsa di Vincenzo e Biondi, le ferite aperte di una favola, era un martedì, la mattina del 10 dicembre del 1996. Ci fu lo schianto mortale in Umbria dei due calciatori del Castel di Sangro al primo anno di Serie B. Vedete Danilo Di Vincenzo e Filippo Biondi. Andiamo a vedere la pagina che riguarda il Pescara e dunque il campionato di Serie B. Pescara ora la svolta in trasferta, i Biancazzurri verso la sfida di lunedì in casa del Verona. Il Delfino ha un rendimento top in casa, ma lontano dall'Adriatico si può migliorare. Vedete, e poi in basso i tabellini delle gare giocate ieri, ma leggiamo questo risvolto per quanto riguarda ancora il Pescara. Tra le Muramiche sono arrivati 19 punti su 26 totali, l'unico successo esterno alla Spezia il 19 ottobre. Lunedì a Verona la gara contro i gialloblu del Pescarese Grosso, proprio il Verona è stato protagonista del colpaccio di ieri a Benevento. Il gol di Matos è bastato ai gialloblu per espugnare il campo dei Campani. Benevento che ha fallito anche un calcio di rigore. E poi Livorno che batte il Foggia per 3 a 1, imminente l'esonero del tecnico dei pugliesi Grassadoni. E poi 0 a 0 tra Cremonese e Cittadella. Vediamo i risultati della giornata calcistica di ieri, partendo proprio dalla Serie A. Juventus-Inter 1 a 0, gara giocata venerdì. Napoli-Frosinone 4 a 0, Cagliari-Roma 2 a 2, Lazio-Sandori a 2 a 2, Empoli-Bologna 2 a 1, Parma-Chivo-Verona 1 a 1, Sassuolo-Fiorentina 3 a 3, Udinese-Atalanta 1 a 3, Genoa-Spal 1 a 1, Milan-Torino 0 a 0, Juventus sempre al comando della classifica in Serie B. Pescara-Carpi 2 a 0 venerdì. E poi la vittoria del Palermo a Padova per 3 a 1, Lecce-Perugia 0 a 0, Spezia-Cosenza 4 a 0, poi la vittoria del Venezia con l'Ascoli per 1 a 0, 0 a 0 tra Cremonese e Cittadella. La vittoria, lo dicevamo prima, del Livorno con il Foggia per 3 a 1, successo esterno dell'Ellas-Verona-Benevento per 1 a 0. Questa sera si giocherà alle 21, Salernitana-Brescia riposa in questo turno il Crotone di Massimo Oddo. Andiamo a vedere la pagina che riguarda la Serie C, prima di andare a vedere poi le pagine dello sport del messaggero in questo Tantam Centro Messaggero. Campitelli, ho rivisto lo spirito giusto, domani si gioca Teramo-Pordenone al Bonolis, il presidente è soddisfatto della prova della squadra Almenti. Ieri nel posticipo di campionato Di Massimo, ex giocatore del Pescara, ha regalato la vittoria alla San Benedettese con il Sud Tirol 1 a 0, il finale per i marchigiani. Ma tornando al Teramo ci sono grossi problemi di formazione in vista della gara di domani, difesa a pezzi, Maurizzi prova Mastrilli al centro proprio della difesa. Vediamo le prime pagine dello sport del messaggero, ripartiamo dal Pescara, una difesa bunker per puntare alla Serie A, fino ad ora si era sentita la mancanza di Campagnaro, ora il clinchette col Carpi, Scogna Miglio può diventare l'arma in più, in attacco c'è la fantasia del bomber mancuso Ottoretti fino ad oggi. E poi a gennaio tre colpi per sognare in grande, vedete il titolo che riguarda il mercato, e poi in basso invece la palla a nuoto con il Pescara tradito da defezioni ex, Pescara-palla a nuoto battuto a Roma sabato scorso dalla formazione locale per 9 a 7. Teramo è sempre emergenza, siamo al calcio di Serie C, a mister Maurizzi domani contro la capolista Pordenone, mancheranno ben sette elementi, probabile ritorno del modulo 4-3-3 per necessità, definito il calendario festivo, si giocherà a Terni il 27 di dicembre alle 14.30, nello stesso giorno giocherà anche il Pescara il 27 dicembre in casa con il Venezia, ma alle 19 Serie D notaresco piani alti e mercoledì c'è la gara di cartello storica per il rosso-blu del presidente Di Giovanni in casa contro il Cesena. E poi Bastese, voglio nove punti per Natale, parla il tecnico Montani, Romagna buona prestazione, ma di vario evidente con gli Aragonesi sconfitti per 3-1. Andiamo a vedere nuovamente le pagine dello Sport del Centro, restiamo alla Serie D come potete vedere, Montani, Scuote e Lavastese, abbiamo un potenziale enorme. E poi Francavilla sul mercato, Cicerello ai saluti, ceduto San Severino, i giallorossi pensano alla gara di Iesi, ma ci sono diversi movimenti di mercato. Siamo ad Avezzano, l'Avezzano che si prepara alla trasferta di Campobasso, d'Alessandro a breve nuovi arrivi, il presidente Marsicano promette rinforzi per risalire la classifica. E poi, come detto, il notaresco che giocherà a Cesena, Cudini, il tecnico della formazione rosso-blu, dice in Romagna con fiducia, non andremo in gita al Manuzzi, dove si prevedono circa 10.000 spettatori. Il Giulianova si rinforza, la squadra del presidente Bartolini, si è infatti aggiudicata ai cartellini di D'Adamo e Pedalino, in arrivo il mediano ex putteolana ed il bomber del Pineto Mangiacasale, va al Gravina di Puglia, mercoledì c'è il Montegiorgio, poi cena sociale e presentazione del libro su Renato Curi. E il Pineto vola, il Pineto di Amaolo vola, e il tecnico indica il traguardo. Vogliamo i play-off, sette vittorie nelle ultime otto gare per la formazione bianca-azzurra. Torniamo al messaggero per vedere gli altri titoli che riguardano proprio la Serie D. Real via Mangiacasale c'è da Damo, Francavilla bello malato di pareggite, 0-0 nell'ultimo turno in casa con il Sant'Arcangelo, e poi Pineto, Giammarino placca la superbia, i valori si vedranno da gennaio in poi. E poi esulta, esulta l'Avezzano operaio, Biancoverdi hanno dimostrato da subito di saper fare a meno degli ex che hanno scelto di compiere altrove il proprio destino. Il presidente D'Alessandro, la nostra rivoluzione ha dato ottimismo, i tre punti con la Savignanese, sono molto utili per cementare il gruppo. Lasciamo la pagina di calcio di Serie D, apriamo quella relativa al campionato regionale di eccellenza, perché ieri fermi campionati di Serie B, di Serie C e di Serie D, riflettori puntati sui tornei dilettantistici regionali, in eccellenza il big match era quello di Spoltore, tra Spoltore e Chieti, la vittoria degli ospiti neroverdi per 1-0, il gol di Marfisi, Chieti beffa l'ex Ronci, vedete il titolo di apertura, i neroverdi passano a Spoltore, con un rigore del centrocampista, e restano in vetta alla classifica con il Sambuceto. Vediamo gli altri risultati, Martinsicuro, Nereto, 1-2, Amiternina, Alba Adriatica, 0-1, Miglianico, Paterno, 2-0, con il nuovo allenatore Tacchi, sulla panchina dei miglianichesi. E poi l'altra pagina, con la vittoria del Sambuceto per 3-0 a Capistrello, Capistrello che cede l'intera posta dalla capolista Teatina. E poi Pennecupello, 1-1, vediamo in basso gli altri risultati, 0-0 tra Pontevomano e Delfino Flacco-Porto-Pescara, Nero Stellati che batte la Torrese per 1-0, 1-1 a Città Sant'Angelo, tra Renato Curi, Angolana e Acqua e Sapone. Vediamo il girone B di promozione, con il risultato inatteso che arriva da Ortona, dove stecca la capolista Lanciano, battuta per 1-0 dagli Ortonesi. Gialoverdi ora al quarto posto, ha deciso la rete di Verì, domenica scontro diretto a Lanciano, tra il Lanciano e il Bagicalupo Vasto, che ha raggiunto proprio in vetta alla classifica i rossoneri del tecnico del Grosso. Vediamo anche gli altri risultati, Casal Bordino, Vidiana Sulmona 0-0, Fossa Cesia, San Salvo 2-0, River 65, Chieti, Sant'Anna 2-2, Villa 2015, Val di Sangro 0-0, Passo Cordone, Scafa 2-3, Piazzano, Faterangelini 0-1, Raiano, Bucchianico 0-0. Vediamo quello che è accaduto nel girone A, Castelnuovo, Pazzo Sciode, rosa implacabile al 93esimo, e dunque Castelnuovo che batte il San Gregorio per 2-1, e poi la vittoria dell'Angizia Luco con la Sportlancelano per 1-0, e poi ancora Piano della Lente, Morrodoro 0-3, Fontanelle, Real Atria 2-0, Montorio 88, Rosetana 1-0, Torni in parte Borgo Santa Maria 0-3, Nuova Sant'Egidiese, Tossicia 2-1, Mociano Sant'Angelo, Sant'Omero Palmenze 2-1, 0-0 tra Mutignano e Pucetta. Lasciamo l'ampia pagina del calcio per parlare in maniera dettagliata di basket, della vittoria esterna degli Sharks Roseto sul campo, sul parquet del Piacenza, primo successo esterno stagionale della formazione Bianca Azzurra, vedete il titolo, Roseto, la gioia arriva al supplementare, gli Sharks sbancano Piacenza, dopo una gara all'inseguimento, Sherrod miglior marcatore con 29 punti, di Persson ne fa 25 e grazie a questo successo il Roseto stacca l'ultimo posto, Cagliari 2 punti, Iesi 4 e poi Roseto 6 punti. D'Arcangeli esulta, partita durissima, il tecnico dei Biancobluno, i bravi a restare sempre agganciati alla gara, per poi fare il blitz. Basket in carrozzina, l'amicacci si inchina alla Santo Stefano, andiamo a vedere anche il basket di serie B, note agrodolci per le abruzzesi, la vetrina spetta all'amatori Pescara, che stende il Fabriano al Palasport di Via Lettra, e c'entra la sesta vittoria di fila, amatori che batte Fabriano, 84 a 75, secondo posto in solitaria, per la formazione Biancorossa, ancora un K.O. per Campli, che perde 92 a 55, a Senigallia, e poi Belteramo, ma non basta, scusate, al Palasport Capriano, passa la capolista Sansevero, per 84, a 78, 10 vittorie, in altre tante gare per i pugliesi, che sono ovviamente in testa, a punteggio pieno, al Giulianova servono due supplementari, per la vittoria Corsara, Giulianova che passa a Catanzaro, per 86, a 79, vediamo che in questo turno, ha riposato il Chieti, in classifica come detto Sansevero, in testa, al secondo posto, c'è il Pescara, vediamo cosa è successo, nella serie C Silver, sempre di pallacanestro, con la vittoria della Torre Spess, sul Teramo a Spicchi, per, scusate, la vittoria del Teramo a Spicchi, in casa della Torre Spess, per 85, a 70, e poi, il successo di Mociano, sul porto San Giorgio, per 85, a 67, la vittoria dell'Airino, Termoli, su Chieti, per 85, a 55, vittoria del nuovo basket Aquilano, col nuovo Pineto, 81, a 57, Basto, che supera la nuova Campri, per 115, a 69, vediamo anche, il Pugilato, Pugilato, con Sauli, la Barbera, Argenti e Rimpianti, sfuma loro, per i due abruzzesi, alle finali nazionali, che si sono volte, a Pescara, comunque, risultato sicuramente, di rilievo, per i due pugili, abruzzesi, e poi, vedete ancora, di Berardino, gioia tricolore, per me, e per Giulia, il nuovo campione, dei pesi massimi, il Pugile di Berardino, che festeggia, questo ambito, traguardo, dunque, vetrina anche per il Pugilato, siamo al nuoto, a Pescara, a Pescara e d'Avezzano, trofeo Abruzzo, 2024, ecco, tutti i vincitori, delle gare riservate, alle categorie esordienti, A e B, gare che si sono, disputate alle Naiedi, nella Marsi, che invece è d'Avezzano, la seconda prova, del sistema della stella, per le atlete, del nuoto, scusate, sincronizzato, parliamo anche, di calcio a 5, dell'acqua e sapone, protagonista, nel massimo campionato, la società ha infatti avviato, una collaborazione tecnica, con il Futsal Giorgione, e proprio dalla formazione, del Giorgione, è arrivato, il portiere Fior, vediamo anche il volley, il volley di Serie A2, con le ottime notizie, che arrivano, dalla Siecortona, che ha espugnato, il parquet, della TPS, Cisano Bergamasca, con il risultato di 3 a 1, dunque, davvero un risultato importante, per gli ortonesi, che dopo un avvio di campionato, non proprio esaltante, stanno scalando, posizioni in classifica, ora sono, davvero ad un passo, come leggiamo anche, dal titolo, dal quarto posto, male solo nel secondo set, gli ortonesi, e domenica, ci sarà il match club, con la Mater Domini, vediamo i parziali, di questa partita, 20-25, 25-21, 19-25, e 21-25, per questo 3 a 1, della formazione ortonese, Marx, siamo felici, solo per i tre punti, non è stata, ha detto il giocatore ortonese, la nostra miglior partita, ma possiamo essere felici, per i tre punti, per quanto riguarda, la Serie C donne, l'Arabona, detta legge, ancora un successo, per la formazione pescarese, in Serie B, Pineto si riscatta, con il Lucera, e poi nono successo di fila, per la Coged Teatina, che mantiene, la vetta della classifica, nella Serie B2 donne, lasciamo il volley, e dunque, con il volley, possiamo chiudere, l'appuntamento di oggi, con Mattino 6, il primo appuntamento, della settimana, con la nostra consueta, rassegna stampa, che come sempre, tornerà domani, alle 8, io vi ricordo, invece, per quanto riguarda, l'informazione, della nostra rete, come sempre, alle 14, la prima edizione, del nostro telegiornale, con le altre edizioni, alle 19, e alle 23, e a proposito, di sport, non perdete, l'appuntamento, di questa sera, come ogni lunedì, in diretta, dai nostri studi, alle 21, replay, condotto, da Enrico Rocchi, per parlare, del Pescara, Pescara, reduce, dalla vittoria, con il Carpi, Pescara, che giocherà, lunedì prossimo, alle 21, gara di cartello, molto sentita, dai tifosi, in casa, dell'Ellas, Verona, al Marcantonio, Bente Godi, Verona, reduce, lo ricordiamo, dalla vittoria, di ieri, con il Benevento, Verona, allenato, dal pescarese, Fabio Grosso, appuntamento, anche, lo ricordiamo, ancora una volta, domani sera, invece con Proteramo, alle 22.30, per il post partita, di Teramo Pordenone, gara di campionato, è davvero tutto, io ringrazio Claudio Di Giacomo, in regia, ringrazio voi, per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento, di giornata. Grazie a tutti,